Salve a tutti amici sportivi e bentornati sul mio canale con questo video speciale perché mi è arrivato un pacco dal PlayStation Plus, me lo aspettavo perché mi avevano mandato prima un questionario da riempire, arriva dall'estero, first name, last name eccetera eccetera sull'indirizzo e io volevo aprirlo con voi anche se so che cos'è però però insomma è una cosa è una cosa carina che mi ha fatto piacere quando mi hanno detto come l'avrebbero mandata vediamo chissà quanto, l'hanno chiuso così tanto, qua c'è una specie di gomma strano, un polistirolo strano, uh, pesante, è pesante sta cosa, ma dai c'è anche una cornice dentro, io pensavo che fosse solo un foglio di carta invece amici c'è tutta una cornice, cioè me l'hanno mandato già incorniciato, che fenomeni, che fenomeni allora è un omaggio della Sony, della PlayStation Plus per aver partecipato dal primo giorno al PlayStation Plus e non aver saltato mai neanche un giorno, ma che bello, no non si può aprire, devo aprirlo, devo smontarlo, vabbè lo smonto dopo allora, devo farvi vedere almeno questa cosa, sono tutte le mie statistiche, certo non sono il massimo del massimo cioè ci sarà sicuramente gente molto più Uber, che ha fatto delle robe molto più esagerate però, questa cosa qua è, voilà allora, Uberinho io provo a ritrovare, toglierlo, vabbè lo tolgo e poi, cioè qui ne parliamo ok, togliere quei pelucchi non è stato come dirsi, ma, allora torniamo a noi Uberinho, l'hanno montato un pochino così a puzzle total 201 di monthly gaming downloads ho scaricato, ho scaricato 201 giacchi mensili total gameplay across all monthly game titles 981 240 ore di gameplay ok, sul gioco che ho scaricato di più gratis ho giocato 240 ore sai che caso di gioco era 423 ore giocate online su PlayStation 4 ok, su PlayStation Plus 1506 sessioni giocate online su PlayStation 4 106 il numero degli amici adesso sono un pochino di più, devono essere intorno ai 150 in questo momento grazie per essere stato parte di questi 5 anni fantastici queste sono le cose che fanno piacere ok, ti fa sentire un pochino importante anche se sai che alla fine non conti un cazzo ma è una cosa simpatica che volevo condividere con voi perché ci ho fatto sicuramente un sacco di video che avete visto anche voi e visto che alla fine le ho fatti anche per voi questa cosa qui è un pochino anche merito vostro questa cosa qua è stata fatta molto bene guarda che roba l'hanno chiusa con i tiodini con le cose e non so ancora dove me la attaccherò ma sicuramente a qualche parte la metto va bene, grazie ancora per essere stati con me con questo video brevissimo e ci vediamo presto con il prossimo video ciao